E' in vigore da ieri l'ordinanza comunale emanata dal dirigente dell'ufficio ambiente architetto Fernando Bonocuore necessaria per rendere efficace quanto previsto dal capitolato d'appalto inerente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con il metodo domiciliare porta a porta. Il provvedimento regola in sostanza in maniera ufficiale le modalità di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse. L'ordinanza in definitiva non fa altro che formalizzare tutto quello che nel mese di maggio è stato comunicato attraverso la campagna informativa a cura dell'attuale gestore del servizio di igiene urbana Monteco SRL che ha avuto lo scopo di informare cittadini e amministratori dei complessi condominali siti nei vari quartieri in ordine alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti con la modalità porta a porta. Il provvedimento inoltre stabilisce che le violazioni sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore. Le violazioni contestate a utenze domestiche condominali infine nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli trasgressori comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o amministratore quale rappresentante dell'intero condominio.